Ragazzi, ragazzi è notte, è tardi, sono tipo mezzanotte, però è importante, è una news, una news importante per voi, sta per uscire, cioè è stato annunciato e ufficialmente è stato pubblicato su Steam il seguito di The Walking Dead e abbiamo davanti qui, io lo sto per iniziare a vedere insieme a voi, il trailer di questo secondo capitolo di The Walking Dead, quindi senza perderci in ulteriori indici, sono parecchio emozionato, lo facciamo partire, 3, 2, 1, vai! Ok, ok, zitti, zitti, silenzio in sala! Oddio, lo zombie, è lo zombie, che commozione, oddio, più zombie! Ah, lo temo! La voce di Clementine! La fattoria di St. John, si sente lì, sottofondo lì! Oddio lì, che brutta fine che hai fatto, come ho dimenticato! Oddio, Clementine è cresciuta! Gli zombie sono cresciuti! The Walking Dead, stagione 2! Cazzo ragazzi, la facciamo, la facciamo sicuro questa! In arrivo! Wow! La aspettiamo insieme, eh! E la aspettiamo, eh! La medicina! La restinga senza questo! La scemplare!